Il comune di Battipaglia ha deciso di comprare la cosiddetta strada fantasma, sieda nel centro di Belvedere, abusiva da 30 anni, intitolata al ciclista Fausto Coppi. La spesa complessiva per l'acquisto è di 20.000 euro, una somma necessaria per mettere fine ad un abuso, infatti si tratta di un'arteria illegittima che nel piano regolatore di 47 anni fa non era prevista, ma nonostante questo atto la strada è sempre esistita, anche se l'occupante comune sarebbe abusivo. La svolta nelle scorse ore nel Consiglio Comunale con la pubblica assise che ha dato il via libera all'acquisizione della strada. Il tutto grazie ad una convenzione tramite un procuratore con soli 20.000 euro, infatti se le parti fossero arrivate in tribunale le cifre sarebbero salite alle stelle. Adesso i privati potranno edificare ed il comune non sarà più occupante e abusivo di via Coppi nel cuore di Belvedere.